buongiorno mister buon viaggio un saluto ai tifosi dell'inter per favore come glielo dobbiamo fare a suo modo che siamo contenti che sono contento di essere cosa si aspetta da questo viaggio? conoscerà da vicino anche John G. Donald, il gruppo Swing? lei mi ha chiesto un saluto poi si allunga un po' per cui dovremmo fare un'offerenza stampa dopo si lavora tutti in maniera corretta non la bruciamo per i suoi colleghi facciamo le cose regolari mister qual è il suo obiettivo per questa persona? no allora soltanto la firma arriverà fino a settimana ma la firma fino a settimana mister tutto apporto ci siamo dati la mano per cui siamo ancora di pelli all'antica che fanno le cose con una stretta domanda c'è bisogno di tanti contratti è contento di lavorare con Sabatini? è superfluo perché lui è una bella persona ed è anche capace nella sua professione per cui diventa facile quando si ha anche fare le persone che hanno rispetto, che hanno qualità, che hanno contatto con quello che ci si può fare grazie ragazzi, grazie a Ryan, ciao grazie mister buon viaggio buon viaggio mister 100.000 foto basta vi raggiungiamo dopo? va bene grazie grazie